e calcio di punizione in favore del Lecce lo sta per battere Ledesma Ledesma dentro ha allontanato con un colpo di testa Lima di nuovo in attacco la squadra di Rossi il cross a cercare Conan pallone allontanato da Panucci poi Totti arriva da lontanissimo Rullo prova a calciare ha respinto Samuel ancora Ledesma di nuovo Ledesma prova a mettere dentro per Cevanton ha allontanato Samuel poi Tommasi di nuovo Rullo Tonetto Tonetto attaccato da Lima assiste Tonetto spallata di Lima ci sarà punizione per il Lecce fallo di Lima su Max Tonetto si arrabbia a Lima però troppo evidente probabilmente è stata è stata la spinta nei confronti dell'avversario si spiega anche con l'assistente di Donnarino calcio di punizione di Ledesma inquadrato Vucinic giovane attaccante Montenegrino sta per battere dunque Ledesma il calcio di punizione in area anche Conan batte basso e poi c'è la conclusione con Palla che termina in rete Cevanton ha segnato Cevanton interrompendo l'imbattibilità di Pelizzoli Ledesma e Cevanton fanno pace dopo aver litigato assist di Ledesma gol di Cevanton al 44esimo del secondo tempo ha segnato l'uruguayano salendo a quota 6 rivediamo il tiro di Cevanton lasciato libero dalla difesa romanista momento di distrazione Cevanton non perdona e fulmina Pelizzoli si interrompe dopo 774 minuti l'imbattibilità di Ivan Pelizzoli primo gol subito all'Olimpico in questo campionato dal portiere romanista sarà dispiaciuto Pelizzoli secondo te Sembino? sarà dispiaciuto perché praticamente Lecce non era più pericoloso insomma la partita ormai ormai è quasi finita subire subire gol praticamente all'ultimo sarà sfortunato anche perché sullo schema Totti non è arrivato di pochissimo veramente sul pallone si è buttato in scivolata pallone finito a Cevanton che ha colpito poi molto bene Roma 3 Lecce 1 è davvero uno dei migliori attaccanti del campionato Ernesto Javier Cevanton salito a quota 6 in classifica marcatori classe 1980 l'uruguayano è seguito da molte squadre da molte società importanti è riuscito a segnare all'Olimpico mentre sta per entrare Gaetano D'Agostino sarà il terzo e ultimo cambio da parte della Roma ma ormai siamo davvero agli sgoccioli la palla arriva nell'area di rigore di Pelizzoli che ha visto dunque interrompersi la sua imbattibilità dopo 774 minuti Roma ha subito il quarto gol in campionato e rimane comunque una difesa solidissima quella della squadra di Fabio Capello 3 a 1 il punteggio dunque dopo i gol di Mansini Keriu e Totti è arrivato quello diceva Anton